battocletti è una delle giovani atlete che saranno sotto i riflettori alle prossime olimpiadi negli ultimi anni si è affermata come una forte concorrente nella corsa di mezzo fondo a livello internazionale si dice che si sia preparata intensamente per i prossimi giochi e parteciperà alla gara di mezzo fondo l'italia ha qui alcuni atleti di spicco tra cui diana bacosi e gabriele rossetti entrambi considerati favoriti per le medaglie bacosi ha già vinto numerosi titoli in passato e darà il massimo a parigi per ripetere i suoi successi rossetti d'altro canto ha impressionato nelle ultime competizioni nella disciplina dello skit e spera di fare il colpo grosso in francia le preparazioni per i giochi sono già in pieno svolgimento molti atleti hanno adattato i loro piani di allenamento per prepararsi al meglio alle sfide delle olimpiadi in particolare la pressione di competere in un evento così prestigioso richiede non solo fitness fisico ma anche forza mentale battocletti avrebbe sottolineato che una forte preparazione mentale è fondamentale per lei per avere successo a livello internazionale l'interesse per il tiro al volo è aumentato negli ultimi anni sia grazie ai successi degli shooter italiani sia per la copertura mediatica questo ha portato a che atleti come bacosi e rossetti ricevano grande attenzione non solo nelle competizioni ma anche nel pubblico la pressione di rappresentare la propria nazione e di salire sul podio in un ambiente competitivo è enorme ma sia bacosi che rossetti sembrano pronti ad affrontare queste sfide e rimane da vedere se riusciranno a resistere alla forte pressione e quali saranno alla fine le loro prestazioni la copertura preliminare sui candidati alle medaglie nelle varie discipline sarà sicuramente un tema importante fino all'inizio dei giochi questi giochi olimpici non saranno solo un culmine di anni di duro lavoro e impegno per gli atleti ma anche una grande celebrazione dello sport e della competizione le speranze per l'italia sono alte e la nazione guarda con trepidazione i suoi atleti mentre si preparano per le gare a parigi autore anita fa che martedì 6 agosto 2024